Fratelli Biagioni, da 60 anni insieme a voi, dalle auto Prince alla Lambretta e da 50 anni concessionario Renault e anche Dacia. Domenica 26 marzo festeggia insieme a noi i 60 anni di attività presso i nostri concessionari di Castelnuovo a Garfagnana e Fornaci di Barga. Dalle 16 inizia la festa con degustazioni, prodotti tipici e tanta allegria. Buon anniversario, Fratelli Biagioni!